1-1 con dietro, una ripresa a ciascuno Ma mi ha fatto sballare il Bertone, l'ho voluto copiare Forca troia, intanto ti devi proprio impegnare per farla Come l'ho fatta io Ciao, grazie Ah Grazie Ah fuck Grazie 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 Oh Oh Ha Grazie 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 Ciao 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 Yeah, yeah, bellissima, va bene, se volete cambiare io non esco, no, 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 vai, dai, facciamo la prima, vai 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 va che c'è il salto vai 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 ora oh 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 Grazie a tutti. Come fa a partire il davanti senza frenare col davanti? Grazie a tutti.